Ancora un'aggressione di un giovanissimo in pieno centro a Brindisi. Sabato 9 luglio intorno alle 23, un ragazzo di 15 anni è stato picchiato selvaggiamente. È il quarto episodio in meno di due mesi. Il giovane era in compagnia di un suo amico quando è stato importunato da un gruppo di suoi coetanei che senza alcun motivo hanno iniziato a picchiarlo. Uno di loro in particolare continuava a picchiarlo sul volto. Si tratta di una gang di ragazzini di circa 14-15 anni. La vittima è finita in ospedale dove ha trascorso la notte per accertamenti. È tornato a casa solo domenica mattina con una frattura composta al naso. La dinamica dell'aggressione pare essere sempre la stessa. Qualche settimana fa era accaduto di nuovo stesso posto, stesso modus operandi, sempre sabato sera, sempre stessa ora. I genitori delle vittime chiedono maggiori controlli soprattutto nel weekend. Nella zona ci sono diverse telecamere grazie alle quali si potrebbe arrivare a identificare gli aggressori. Per i casi precedenti pare che le forze dell'ordine stiano seguendo una pista ben precisa. E parte così l'appello al sindaco e a tutte le istituzioni. Quello che sta accadendo a Brindisi, dice il papà del 15enne aggredito sabato sera, non è più sopportabile. Bisogna fare qualcosa per prevenire.